segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te attenzione a non parlare di passarelle quando il capo dello stato va a crotone secondo me questo è un giudizio molto grave che lei sta dando ridurre la presenza del capo dello stato ad una passarelle no lei ha detto questa cosa io ho risposto a una domanda precisa ha detto vada mattarello vada la schlain vada chiunque anche la meloni si è una cosa molto diversa c'è già stato il governo lei ha detto delle cose se ne prenda la responsabilità la presenza diciamo di tutti i ministri perché sennò vuol dire che il governo è assente questo intendevo dire quindi infatti grazie la precisazione è esplicita norma era esplicito perché poi insomma lingua italiana insomma abbastanza chiara l'ho detto allora la usi bene la repubblica allora la usi bene pure l'opposizione però e allora la usi bene la presenza da parte del governo dello stato e le opposizioni ci sia tutti i giorni perché quello che lamentano gli amministratori diciamo che andarci la parola passarella la parola passarella poteva dare questa cosa bene la precisazione ci dobbiamo fermare veramente pubblici